Le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, sono diventate famose nel mondo dello spettacolo grazie alla loro bellezza e determinazione. Nonostante il pubblico le conosca come le sorelle Rodriguez, recentemente un dettaglio sui social ha fatto scalpore. Durante la sfilata del brand di famiglia in Nominated, Cecilia non era presente, scatenando così diverse ipotesi tra i fan. La verità è che Cecilia è attualmente in viaggio di nozze con il marito Ignazio Moser, con il quale si è sposata alcuni mesi fa. Mentre la modella si gode la luna di miele, Belen ha condiviso sui social alcuni momenti dell'evento. Tra i follower però è stato notato un particolare. Belen ha indossato un outfit trasparente che ha lasciato tutti a bocca aperta, confermando ancora una volta la sua bellezza e sensualità. Il brand dei fratelli Rodriguez racconta una storia di libertà e autenticità attraverso capi di abbigliamento che esprimono la loro visione di sorellanza e fratellanza. L'origine argentina delle sorelle è una costante nei loro design, che vogliono rompere gli schemi e gli standard imposti dalla società moderna. Nonostante le speculazioni sulle presunte tensioni tra le due modelle, la verità è che Cecilia è semplicemente impegnata nella sua luna di miele. La sua assenza alla sfilata non ha nulla a che fare con questioni familiari, ma è dovuta al desiderio di trascorrere del tempo con il suo nuovo marito. La storia delle sorelle Rodriguez continua a ispirare e affascinare il pubblico, dimostrando che la vera bellezza risiede Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!